i diamanti ma comunque ciao a tutti ragazzi io sono giovanni e ben ritornati in questo nuovissimo video di minecraft una bella e brutta notizia la bella è che mi sono riuscito a fare l'armatura completa in ferro un piccone in ferro una spada in ferro ho trovato lapislazzuli resto e oro ma la brutta è questa parrott barnett tutetto il mio pappagallo è finito nella lava ed è morto ragazzi però finalmente abbiamo trovato i diamanti e lo stesso giorno allora il video voi lo vedrete dopo domani oddio ecco l'icola ma quanti quanti vabbè comunque il video lo vedrete ce lo caricherò dopo domani mentre io lo sto registrando lo stesso giorno che ho creato la vanilla c'è lo stesso giorno trovo i diamanti guardate quanti sono no raga avrente sono troppi sono undici diamanti sì ok allora li vorrei conservare per poi quando mi si romperà l'armatura o il piccone o la spada è lo stesso giorno che regi cioè lo stesso giorno in cui ho creato la vanilla quindi raga immaginate ho trovato i diamanti lo stesso giorno in cui ho creato la vanilla c'è raga quindi allora presente oggi caricherò il giorno in cui sto registrando questo video caricherò il video delle curiosità che per voi è già uscito poi domani caricherò il video del primo episodio della vanilla e dopo domani caricherò questo video quindi per me oggi è il giorno in qui caricherò il video delle curiosità mentre questo è il video del nuovo episodio che caricherò dopo domani cioè lunedì comunque ragazzi mamma mia oddio oddio comunque insieme al video di oggi caricherò anche uno short che vi mostrerò una cosa che mi è arrivata comunque eccoci qua no lo spider eye mi da veleno adesso il problema è come faccio a salire ho trovato anche l'ametista e niente raga uso il tuffo il tuffo ok aspettate che faccio tipo una cosa carina una scaletta no raga mi serve più pietra mi serve più pietra e ragazzi ho ho fatto anche un asino sì un asino e fatto anche la casa ragazzi mi sono mi sono messo appena ho finito il primo episodio mi sono messo a raccogliere legno oppure ho consumato due asce in pietra per fare tutto questo casino e niente ragazzi adesso mettiamo la roba i diamanti e in chest va bene ragazzi io spero che questo video sia piaciuto dura poco perché poi devo spegnere devo andare a casa a me perché sto a casa di mia zia spero che vi sia piaciuto lasciate mi piace e iscrivetevi se volete un nuovo episodio col mio asinello io vi saluto ciao ciao